I mongoli intrapresero un lungo viaggio per raggiungere le coste del sud della Cina e riorganizzare il loro esercito, ma le infide correnti del mare delle Filippine, un mare infestato di testimoni di Geova portarono fuori rotta la barca dei Superstri, i quali rimasero in balia del mare per anni, centinaia di anni, finché un giorno. Geova portarono fuori rotta la barca dei Superstri, i quali rimasero in balia. Geova portarono fuori rotta la barca dei Superstri, i quali rimasero in balia. Geova portarono fuori rotta la barca dei Superstri, i quali rimasero in bordo. di fuori rotta la barca dei Superstri, i quali rimasero in balia. Chiaam java yunna chali jai Poi se non arrivi a chi si che bila Poi se non arrivi a chi si che bila Poi se non arrivi a chi si che bila Alla Giàn p'echan ho Dina asan ho Giàn p'echan ho Dina asan ho Di l'appre churane valo Aanq na churao, naam to batao Giàn p'echan ho Dina asan ho Giàn p'echan ho